Sono in compagnia con un mago della risata, Massimo Boldi. Buonasera a tutti, ciao Cipollini. Fa un certo effetto essere qua questa sera a Cinecittà, perché a Cinecittà non si fanno più i film, si fa solo la televisione e i premi. E questa sera è una sera particolare, si parla di cinema. Questa sera è il Sorridendo Film Festival, quindi ci saranno premi, anche a lei verranno dati. Ricky Cotion. Esatto, comunque si parlerà proprio di cinema Cinecittà per una giustissima causa, una causa molto importante che la Sorridendo Onlus sostiene, la diversità a 360 gradi. Bene. La domanda che mi faccio io, no? Pertinente? Ma sì, diciamo di sì, leggere e pertinente. Direi, lei che ha fatto sempre ridere, fa sempre ridere le persone, fa ridere gli altri, no? Ma lei ride in casa? Ma che cosa fa a ridere Massimo Vogni? Lei? Noi siamo messi bellissimi. Ebbè, è una battuta, no? Eh certo. C'è qualcosa che veramente la fa ridere? Mi fa ridere Gianni e Pinotto, ma lei non sa chi è Gianni e Pinotto. Ah, li conosci? Eh sì, sì, Gianni e Pinotto li ho visti. Beh, allora, Gianni e Pinotto, Gianni e Pinotto, ebbè, sono meglio di stare all'olio. Grandissimo, grazie mille, la lascio andare perché qui la reclamano intanto. Ciao Panduic, non riesco a dirlo bene, c'è un provvisorio. Panduic. Grazie. 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 Grazie a tutti